Sindaco, l'acquisizione di quest'area adiacente, il Museo del Mare, da parte della Croce Rossa italiana è un'acquisizione importante e strategica per il Comune di Pescara? Sì, è strategica perché tutta quell'area sarà trasformata, riqualificata, punterà sull'aspetto culturale turistico della città perché sposteremo il mercato ittico all'ingrosso nella zona sud e quindi libereremo quell'edificio di 5.600 metri quadrati. Ristruttureremo il Museo ittico, sposteremo anche il mercato ittico al minuto per liberare quell'altro edificio e per trasferirci il centro delle tartarughe marine, riqualificheremo tutta la zona per creare una passeggiata lungo il molo fino alla diga foranea perché questo è l'obiettivo complessivo. La città che si trasforma anche grazie a questo accordo con la Croce Rossa che è un accordo che si concretizza dopo tantissimi anni perché il primo accordo fra la Croce Rossa e il Comune di Pescara per fare la sede della Croce Rossa risale al 1968. Finalmente la Croce Rossa di Pescara avrà una sede dove potrà esercitare tutte le attività legate alla Croce Rossa e legate al sostegno sanitario e Pescara acquisirà un'area importantissima di fronte al Museo ittico. Cosa cambia in meglio per la Croce Rossa di Pescara questa acquisizione dei locali sotto la stazione ferroviaria di Pescara Porta Nuova? Beh, innanzitutto un risparmio economico ingente perché da alcuni anni il Comitato di Pescara è stato costretto a trovare in affitto dei locali neanche molto spaziosi, però era l'unica soluzione all'epoca. Oggi con questa soluzione si risolvono tantissime questioni, non solo la questione economica, si risolve la questione degli spazi, la questione della fruibilità e soprattutto anche la questione di orgoglio da parte dei volontari del Comitato di Pescara perché ormai sono 50 anni che aspettano questa soluzione. Una nuova sede che permetterà un lavoro ancora migliore da parte della Croce Rossa? Sì, noi cerchiamo di fare del nostro meglio in qualsiasi condizione, però avendo a disposizione spazi, avendo a disposizione spazi tra l'altro appena ristrutturati, quindi che garantiscono anche sotto il profilo delle norme sanitarie, ci rende il lavoro sicuramente più facile, anche se dobbiamo dire che non è solo questione di emergenza. La Croce Rossa c'è sempre, in tutti i giorni dell'anno, assistiamo tantissime famiglie, specie nel comprensorio pescarese. Ecco, una nuova soluzione di questo tipo garantisce sicuramente anche delle capacità maggiori.